Ci fa molto piacere lavorare a questo progetto perché si possa restituire un bene comune alla popolazione rosarnese, perché si possa dire che qui in Calabria, qui a Rosarno, non c'è solo un drangheta. La pioggia non ha affermato l'inaugurazione della Communitas della Biodiversità, progetto nato su un terreno confiscato al clan Bellocco di Rosarno. La cerimonia è stata celebrata in occasione della festa dell'albero, sull'apprezzamento di sette ettari che il comune Medmeo ha affidato al consorzio Macramè. L'idea è quella di far sorgere questo luogo come una Communitas, quindi un vivere insieme di persone di diversa etnia che lavorano sia per esaltare la biodiversità genetica o quella antropica, accanto a quella invece naturale. Grazie al progetto Mestieri Legali i partner hanno dato vita a una comunità che associa alle attività puramente agricole, interventi di carattere educativo e ambientale, i cui attori principali sono i migranti. E ci troviamo proprio qui dove noi abbiamo fatto anche delle esperienze didattiche con i nostri studenti, quindi unendo didattica, ricerca e con il coinvolgimento anche dei migranti. Legambiente si occupa della parte didattica, ci occupiamo anche di tutti i laboratori che parlano di fiume, di acqua, di territorio e abbiamo provato a portare anche qui il tema dei rifiuti. Abbiamo proposto lo smaltimento dei rifiuti che sono quelli prodotti dall'agricoltura tramite un sistema diciamo innovativo, poco conosciuto, su cui ancora bisogna lavorare tanto, che è la lombricoltura. Dopo due anni di intensa preparazione, finalmente il terreno prende forma, grazie allo sforzo dei partner che lo hanno trasformato, a costo di enormi sacrifici, in un luogo di incontro tra culture diverse e lavoro. Francesca Altomonte per la Cineus 24. Grazie a tutti per la Cineus 24.